Gesù, emesso un grande grido, spirò. Allora il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto fino al basso, e il centurione, visto lo spirare gridando a quel modo, esclamò, davvero quest'uomo era figlio di Dio. Da queste poche parole del Vangelo di Marco, ma che si ritrovano con qualche differenza di particolari in quelli di Luca, di Matteo e di Giovanni, deriva il culto di San Longino, forse uno dei santi militari ancora oggi meno studiati, sulla cui esistenza stessa ci sono forti dubbi. Che fosse il soldato che con la lancia ferì il costato di Gesù, da cui sgorgarono sangue e acqua, oppure il centurione romano convertito ai piedi della croce, oppure il militare a capo delle guardie del santo sepolcro. A rispondere, dopo il suo lungo studio dei testi, alcuni dei quali mai tradotti in italiano, è il professor Gianluca Orsola, docente di lingua latina alla Pontificia Università Lateranense. L'ongino è un'unione di tutti questi, perché comunque sono delle sovrapposizioni nei secoli. Si parte da questo personaggio che è alla base della croce, la Lancia Long, dal nome del proprio Lancia, Longino, perché ovviamente nei Vangeli Apocriti si cercava di dare un nome ai vari personaggi che poi rimanevano anonimi nei Vangeli Canonici. Questi personaggi sono tutti un po' fusi insieme e quindi hanno dato luogo a questo Longino, ma effettivamente non potrei dire se fosse uno o fosse l'altro. Sappiamo che in seguito Longino abbandonò la milizia, venne istruito nella fede dagli apostoli e se ne andò a Cesarea di Cappadocia, della quale divenne il principale evangelizzatore, conducendo laggiù una vita di santità che si concluse con il martirio, come spiega ancora il professor Orsola. Longino suggella la sua vita con il martirio e prima della pace costantiniana il martirio era un po' il coronamento, l'eroe delle virtù era il martire, quindi il martire addirittura come eroe paragonato a chi vinceva le gare nei circhi. L'esempio per chi voleva aspirare alla beatitudine eterna, prima martire Gesù. Longino, temporalmente parlando, è molto vicino al martirio di Gesù. Longino e la sua lancia comunque furono immortalati da diversi artisti. È del Bernini stesso la statua alla base di uno dei quattro piloni che sorreggono la cupola di San Pietro, ma anche la città di Lanciano pare derivi il suo nome latino da quello più antico di Anxanum, legato alla prodigiosa lancia di Longino. Gli imperatori del sacro romano impero avevano tra le proprie insegne la sacra lancia, una punta di questa è ancora oggi custodita a Vienna. Un'altra reliquia fu invece conservata a Parigi prima di andare dispersa nella rivoluzione francese. Perché tutta questa importanza attribuita alla lancia di Longino e qual è quella vera? Ce ne sono diversi parti, anche perché era stata divisa in piccole parti, cioè quindi anche perché esistono vari posti che rivendicano di avere la lancia nel loro luogo. Il fatto è che invece è interessante comunque che la lancia arma a punta, i talismani con la punta erano più potenti, più questo è un talismano che ha toccato il Cristo come elemento di forza e di potenza per chi lo possedesse. I martiri per la Chiesa sono sempre esempi di virtù. Papa Francesco all'Angelus del 26 dicembre 2016, in occasione della solennità di Santo Stefano, ha detto che ci sono più martiri oggi che nella Chiesa dei primi secoli. Cosa racconta un martire come San Longino all'uomo di oggi? San Longino è un esempio. Voler dichiarare che Gesù è il Cristo fino alla fine. San Longino, che si è convertito ai piedi della croce secondo una tradizione, secondo un'altra tradizione medievale, addirittura riacquistò la vista alla base della croce col fiotto di sangue che sgorgò dal costato di Cristo, ha sempre dichiarato che Gesù era il Cristo, la coerenza e l'erosità delle virtù.